Buongiorno! Eh, tanto che giorno! Lo so, lo so. Tra poco è quasi buon pranzo. Eh, ma qui abbiamo da fare. C'è tanto, tanto da fare. Due notizie. La prima. Sarebbe simpatico se più tardi facessi una diretta, anche perché ci sono diverse gazzette di cui vi volevo parlare e farle in un video diventa troppo lungo. E quindi, o in serata o domani. Vediamo, vediamo un attimo. Tanto arriverà sempre il Minions che vi avviserà un'ora, un'ora e mezza prima della possibilità di questa diretta. E in quell'occasione, se riuscissi, magari facciamo anche due chiacchiere. Seconda notizia. Così mi andava di condividere con voi, per poter riflettere come sempre, un articolo della legge sulla pubblica sicurezza. Ed è l'articolo 14. Rescita così. Sono autorizzazioni di polizia, le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali, di meretricio e simili atti di polizia. Alla prossima!